Buonasera da Palazzo De Nobili, siamo nella sala stampa allestita qui all'interno della casa municipale. I seggi sono da poco chiusi, quando registriamo questo intervento sono le 23.20 appena passate. Giusto il tempo per comunicare i dati relativi ai primi exit poll, quelli che sono stati per legge diffusi al termine della chiusura dei seggi, contestualmente è stata iniziata l'operazione di spoglio. Secondo questi dati, che ripetiamo sono quelli dati dagli elettori all'uscita a campione, quindi all'uscita dai seggi, Abramo avrebbe un range di preferenze tra il 31 e il 35%. Appena distaccato di qualche punto Nicola Fiorita, 30-34%, un po' più dietro Ciconte, 27-31%, praticamente fuori da giochi, sempre secondo gli exit poll. La rappresentante del Movimento 5 Stelle che si assesterebbe sul range tra il 4 e l'8%. Questi sono gli exit poll dell'Istituto Piepoli. Quelli raccolti da Repubblica non si discostano di molto, tant'è che anche quelli del quotidiano nazionale e del relativo sito si danno per diretto accesso all'abballottaggio Abramo e Fiorita. A questo punto soltanto qualche altro numero per chiudere questo primo intervento. 75.290 gli aventi diritto al voto, hanno votato per la prima volta 437 elettori, di cui 230 donne e 207 maschi. I seggi nella città di Catanzaro sono 90 ovviamente all'opera. Appena avremo delle notizie più certe opereremo un secondo collegamento da Palazzo dei Nobili.